Ragazzi, penso che Olioman mi abbia denunciato per il mio ultimo video, così ho potuto capire su Instagram con questa foto qui dove mette una foto di un quarto di questa lettera dove gli ha scritto Questura di Palermo Ufficio Prevenzione Generale Diurna e Notturna e poi ha fatto questo post che mi ha fatto molto ridere, leggiamolo insieme. Gli haters, come vengono chiamati oggi, hanno sfruttato la mia visibilità sui social per prendere qualche like ai commenti e se all'inizio mi andava bene perché come si suol dire che se ne parli bene o che se ne parli male, l'importante è che se ne parli. Sono nelle ultime ore avvenute le circostanze che mi hanno costretto a prendere una decisione drastica e a contattare gli organi di competenza, ma te che cazzo gli hai detto gli organi di competenza? Gira di fatti un video su YouTube in cui vengo apertamente diffamato qualcuno, ovvero il sottoscritto, in particolare si è permesso di utilizzare la mia immagine, i miei video, i miei dati personali senza permesso. Tutti i contenuti che ho utilizzato nel mio penultimo video sono stati presi da profili pubblici, io non devo richiedere assolutamente il permesso come nessun altro, come tutti quanti possono utilizzare i tuoi contenuti come anche i miei dato che sono pubblici, però l'olio è dato che in testa certe cose non le puoi capire. Per creare un video con un titolo fuoriviante è clickbait, ma clickbait è di cosa? Nel titolo ho scritto l'italiano che sta abusando di sintol, ovvero olio sintetico, ma scusami, io poi prendo una foto tua, questa qui, tu non stai abusando di olio sintetico, vero? No, è clickbait il mio video, certo, come no? Penso che non parliamo la stessa lingua, o non sai cosa vuol dire clickbait, solo per aumentare le sue visualizzazioni e guadagnare qualche misero euro. Guarda che io non faccio solamente lo youtuber, non sono queste qua le mie entrate principali, comunque vabbè, ledendo non solo la mia immagine e rappresentandomi in una maniera che non mi rappresenta, ma scusami, guarda, facciamo una cosa, andiamo a vedere un po' sul tuo tiktok, perché io ho trovato il tuo tiktok, come ti percuni da solo. Questo è il tuo tiktok, erosloopsor85, su tiktok mi chiamano olio man, io adesso prendo questo video, guardiamolo tutti quanti, profilo pubblico, ecco di qua. Con litri e litri d'olio dentro le braccia e dentro le spalle. Titolo del video, a grande richiesta, olioman versione evo, tutte cose che hai scritto te, ti stai autoperculando quindi, prossimo video, questo qua mi ha fatto anche sorridere, quando finisce l'olio c'è olioman, questo è il titolo del tuo video. Scusami, come devi essere rappresentato, eros, ti percuni da solo. Il mio video, il mio penultimo video, era fatto con buone intenzioni, per farti capire che stai sbagliando, per farti rendere conto. Guarda, se le persone che ti stanno accanto ti vogliono veramente bene, farebbero di tutto per aiutarti. Ma io penso che voi utilizzatori di Sintol, come tu in questo caso, che ne stai abusando di olio sintetico, avete dei gravi problemi. Guarda, se ti posso dare un consiglio, fatti aiutare da uno bravo, perché ha dei gravi problemi. Te pensi veramente che quello che hai nelle braccia, dentro le spalle, sia del tessuto muscolare, quando in realtà è solamente dell'olio sintetico. Comunque, rappresentandomi in una maniera che non mi rappresenta, sì certo, dicendo menzogne, ma tipo cosa? Fammi capire, che menzogna io ho detto? Che usi olio sintetico? Vuoi dire che è una menzogna questa qui? Provacelo che non è dell'olio sintetico, per favore. Ma sfruttando anche l'immagine di mia moglie e della mia attività, non mi sono mai permesso di sfruttare l'immagine di tua moglie, non lo farei mai. Proprio mai, per chi mi conosce lo sa benissimo. Io ripeto, tutti i contenuti che ho utilizzato sul mio penultimo video, sono contenuti presi da profili pubblici. E non oserei mai mischiare tua moglie o qualsiasi altra persona. Il video è stato fatto su di te, perché sei te che stai abusando di Sintol, nessun altro. Quindi, adesso, se vi vado a prendere il profilo dove ho preso i contenuti, eccolo qua. È questa descrizione, posto, video, ironici, su mio fratello, che saresti tu. Questo qua è il profilo dove ho preso i contenuti. Profilo pubblico. Eros, mi pari, non lo so, mi pari un Pokémon, mi pari proprio l'evoluzione perfetta di Chiofalo. Ti voglio chiamare Chioilfalo. Ti calza a pennello. E se mai dovesse arrivarmi la tua denuncia qui in Svizzera, penso che farò proprio questo. Ero, mi pari, non lo so. Ero, mi pari.